Action Loft Vincent Lyonhaft, il vostro poeta guerriero ribelle preferito. Cari amici e carissime amiche, se vi piacerà questa poesia mettete un bel pollice in su. Le poesie appena nate, sono raggi di sole che volteggiano nel mio cuore. La notte ovviamente, incessantemente presente, ma tanto greve non è più, il suo passo tanto più breve.